Draghi credo che dovrà fare un percorso di guerra. Vedrete che già quando presenterà la lista dei ministri avrà un primo bombardamento. Ma intanto prendiamo atto che l'Italia ha individuato una personalità che per la sua sola storia dà prestigio all'Italia e ci dà credibilità in Europa e nei mercati finanziari. È stato un colpo d'ala da parte di Mattarella, la chiamata di Mario Draghi, che è una personalità di grande rilievo e di grande prestigio sul piano internazionale. Abbiamo respirato sinceramente aria nuova da quando ha cominciato a parlare Draghi. Un'aria di grande semplicità, di grande sobrietà, dopo un decennio di demagogia fatta di supponenza e di incompetenza nel nostro Paese. Dopo un decennio nel quale non siamo stati capaci, come forze politiche nazionali, di approvare uno straccio di riforma istituzionale che strappasse l'Italia dalla palude della politica che abbiamo conosciuto in queste settimane. Già la nomina a Presidente del Consiglio di Giuseppe Conte la seconda volta è stata una vicenda sinceramente anomala in nessun Paese del mondo. Nel giro di poche settimane avremmo avuto un Presidente del Consiglio in grado di passare da una maggioranza ad una maggioranza di segno opposto. Ma ci siamo autoconvinti in Italia che era una cosa normale, ma già quella non era una cosa da Paese normale. Abbiamo fatto finta che si poteva andare avanti anche muovendosi in quel modo. Abbiamo nobilitato la tradizione italiana del trasformismo. La nomina di Draghi costringe tutti quanti, tutte le forze politiche, a fare i conti con le proprie contraddizioni. I Cinque Stelle che nel giro di due o tre anni hanno assunto posizioni che sono l'esatto contrario di quello che hanno raccontato per dieci anni. Sulle questioni che riguardano le alleanze politiche che escludevano in via di principio, sulla lotta alle correnti nei vari partiti, altro che correnti nei Cinque Stelle, sull'impegno a trasmettere tutto in streaming. Ogni passaggio politico sarebbe stato trasparente, sottoposto alla conoscenza e al giudizio degli iscritti, dei cittadini. Le grandi opere, la posizione sui vaccini, la posizione assunta per dieci anni anche su un avviso di garanzia. Bisognava mandare a casa chi aveva funzioni pubbliche per un avviso di garanzia, poi per la Raggi, l'Appendino, per tutti gli altri. Le regole sono cambiate. Perfino quando si sono costituiti i governi bisognava andare a piedi a lavorare. Mi ricordo i primi ministri per le prime 24 ore andavano con i mezzi pubblici. 24 ore, poi tutti con le macchine di servizio. Bene così. Se, come è stato detto, dobbiamo diventare maturi, così ha detto un dirigente Cinque Stelle, va bene così. Ci auguriamo che si consolidi un processo di maturazione, di serietà. Per il Partito Democratico c'è da fare i conti con la realtà. Il Partito Democratico rimane un partito con una identità non definita, questa è la mia opinione, non chiara, non percepita. La mia opinione è la mia opinione,